Gentili telespettatori, buona giornata. Siamo solo all'inizio, dice Renzi, sulla fuga che c'è dei politici dal Partito Democratico. Certo, immaginatevi la disillusione. Il secondo partito italiano, dove viene eletta, secondo me, hanno messo, non è che ha vinto, e ha opinione, hanno messo la Schlein. Pensate ai politici del PD, trovarsi sta ragazza con un po' da centro sociale, che va alle manifestazioni degli altri ogni sabato, che fa l'antifa. Insomma, lo spostamento non solo a sinistra, lo spostamento proprio verso un po' ancora di più la superficialità, il pressapochismo. Renzi dice, guardate che la fuga dei politici è solo all'inizio. Può essere che in questa democrazia la gran parte dei politici del Partito Democratico se ne vada proprio da Renzi, da Calenda, lasciando praticamente un PD con pochi deputati. La profezia di Renzi è proprio oscura sul PD, che perde pezzi. Se ne è andato via a Borghi, Fioroni, Chinnici, Marcucci, Cottarelli. Queste scelte non sono una sorpresa, dice Renzi, per chi mi segue nella mia e-news da tempo, non sono assolutamente una sorpresa. È solo l'inizio. Diamo tempo al tempo e il quadro politico di questo paese cambierà profondamente. Sì, è quello che ho sempre pensato anch'io. Non riesco a capire come ancora gli elettori del PD continuino a votare il PD e non votino per Calenda. Perché non riconoscono in Calenda leader di sinistra? Cioè, tra Calenda e la Schlein non c'è confronto, non ci può essere un confronto. Renzi dice che sulle tasse la Premier ha chiacchierato molto e fatto qualcosina. Se farà di più saremo contenti per il paese, ma nel frattempo ci accontentiamo che dica la verità. Quanto alla sinistra la posizione... Allora, se voi notate, Renzi non sta attaccando apertamente la Meloni e c'è un motivo. Vedi, dice, ha fatto qualcosina, ma l'importante è che dica la verità. Si riferisce alla Meloni che nel video fatto autoprodotto prima del Consiglio dei Ministri diceva che era la più grande riduzione delle tasse degli ultimi decenni e poi non era vero. Quindi Renzi si riferisce a quello e dice ha fatto qualcosina, ma ci accontentiamo che dica la verità. E poi cambia discorso. Perché fa così? Perché la Meloni oggi serve a lui e lui serve a la Meloni come Calenda, proprio per le riforme. Visto che probabilmente Renzi e Calenda supporteranno il governo per le riforme, la Meloni se li deve tenere buoni e loro devono tenersi buoni la Meloni. Perché quando Renzi e Calenda sosterranno la Meloni per le riforme non lo faranno mica gratis. Non è che lo faranno perché gli sta simpatica la Meloni o Salvini. Lo faranno a cambio di qualcosa che per il momento non sappiamo esattamente. E così. Poi Renzi parla della sinistra. La posizione filo patrimoniale, filo tasse di successione nota. Ecco, quindi Renzi dice questi sono per le tasse, sono per la patrimoniale e per le tasse. Questo significa che a destra abbiamo sovranisti che sognano una flat tax che non riescono a fare e a sinistra abbiamo massimalisti che richiedono più tasse. Ecco perché dico che lo spazio del terzo polo dei riformisti c'è anche sul fisco. Uno spazio enorme che va occupato con credibilità, tecnica e passione politica, sottolinea Renzi. Meloni dice ha fatto un timido passo nella direzione giusta, provando ad abbassare le tasse. E così poi dice anche lo ha accompagnato con una frase talmente sbagliata da oscurare tutto il resto. Ha detto girando un video costruito su una narrazione epica il più grande taglio delle tasse degli ultimi decenni. È una frase falsa come è stato spiegato in tutte le sedi e non lo dico per un fatto personale perché oggettivamente il nostro governo è stato quello che ha fatto di più al punto che persino giornali che non mi amano come la stampa hanno dovuto titolare e Renzi il re del taglio delle tasse. E conclude Renzi. Lo dico perché se il governo sceglie di mentire in modo clamoroso persino sui canali ufficiali a cominciare dai comunicati del MEF i cui uffici sono storicamente un presidio di rispetto dei numeri e di rigore tecnico allora vale tutto e viene messa in pericolo la credibilità stessa delle istituzioni. Ma davvero la Meloni non sapeva che il suo non era il più grande taglio delle tasse degli ultimi decenni? Cioè è possibile davvero che la Meloni o alla Meloni nessuno dei suoi abbia detto guarda non dirlo perché non è vero? Possibile che la Meloni lo abbia detto apposta non pensando che poi i giornali il giorno dopo avrebbero tirato fuori i dati? Perché quella comunicazione era una comunicazione propagandistica per il suo elettorato. era un po' come dire sui migranti insomma stiamo facendo niente allora passo al al più grande abbassamento delle tasse così visto che di là non sono contenti gli dico che il più grande abbassamento delle tasse della storia della Repubblica lo ha fatto apposta sapendo però come ha potuto farlo non ha immaginato che il giorno dopo i giornali avrebbero tirato fuori i dati uno per uno ha peccato di leggerezza lo ha fatto apposta nessuno gliel'ha detto era convinta realmente oppure la spiegazione è un'altra la spiegazione è che lei intendeva un taglio del cuneo fiscale più grande degli ultimi decenni perché solo Draghi ha fatto quell'1% lei ha fatto il resto forse intendeva dire il più grande taglio del cuneo fiscale degli ultimi decenni però realmente è uscito male dicendo è il più grande taglio delle tasse degli ultimi decenni perché su tasse sulle tasse è molto più ampio non è solo quelle sul sul lavoro ma sono le tasse sono in maniera anche più ampia forse ha detto la frase sbagliata intendeva dire qualcos'altro grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie